No, noi puntiamo sempre in alto, anche quando stavamo in basso, però a meno io sono abituato a guardare la realtà, non guardare il futuro o il passato. È vero che abbiamo preso tanti punti rispetto alle squadre che stanno in basso, perché noi eravamo in basso. È normale che adesso che ci troviamo lì a 24 punti, dobbiamo puntare, perché siamo una bella squadra, siamo una gran bella squadra e dobbiamo puntare a cercare di raccimolare punti per superare le altre su. Senza, non dobbiamo dire, abbiamo dimenticato quelle giù, perché quelle giù ci fanno ricordare dove eravamo, quindi sempre con umiltà cercare di arrivare fino in fondo e poi tirare le somme sempre alla fine. Come si impone il proprio gioco con le squadre piccole, soprattutto in casa quando si chiudono? che cosa dovete fare, che cosa devi fare, dove pensi che sbagliate o dove avete sbagliato? Quello che ho imparato io giocando da regista e vedendo anche grandi giocatori giocare da regista è non perdere la pazienza, soprattutto con le piccole, perché si chiudono tutti a centrocampo, ritornano tutti e undici dietro la palla e quindi gli spazi, ma questo come accade anche al Milan, all'Inter, alla Juve, trovano più difficoltà con le piccole perché si difendono tutti e ripartono in contropiede, quindi se tu verticalizzi sempre o se tu hai la frenesia di far gol, rischi di fare brutte figure e di non giocare bene. Quindi la nostra priorità quando si gioca con le squadre cosiddette piccole è quella di avere pazienza fino alla fine perché sempre con il bel gioco poi alla fine loro qualche cosa ti lasciano e quindi le nostre qualità possono venire fuori. L'importante è non avere fretta e la frenesia di far gol perché poi come col Brescia ad esempio i primi dieci minuti sei partito bene, poi subisci i gol e ti cade il mondo addosso e poi non sempre le partite vengono recuperate. Però col Brescia è stato un esempio perché l'abbiamo recuperato giocando a calcio, l'abbiamo recuperato non buttando i palloni in avanti, non tirando a casaccio ma creando delle occasioni da gol nitide. Quindi penso che alla fine è il bel gioco, poi alla fine se viene fatto poi i risultati vengono fuori perché la qualità secondo me alla fine vince sempre. Io la chiamo una bella Macedonia, nel senso che dona tanta quantità e tatticamente penso che è più bravo di tutte e due. Riccardo è più propenso ad offendere, a inserirsi con la palla e senza palla e io spero di essere lì anche tatticamente e far gire la squadra. Quindi c'è una bella simbiosi e una bella fusione. Per quanto riguarda Adrian, ribadisco e ti faccio i complimenti a Donadel perché nel gergo calcistico da noi si dice serve come il pane. Per quanto riguarda Adrian, io parlo personalmente con me, mi ha sempre trattato bene. Io non giudico le persone per quello che fanno fuori perché c'è chi già sta provvedendo. Io posso fargli in bocca al lupo a Adrian perché a me mi ha sempre trattato da compagno dentro spogliatoio e dentro al campo e quindi non posso giudicarlo perché con me non si è mai comportato male. E dentro al campo devo dire in campo parlo perché poi non ho mai avuto un modo di uscire con lui perché abbiamo magari una vita privata diversa. Dentro al campo è uno che ci ha dato sempre una mano, è uno che sa fare la differenza. Lì lo posso giudicare e ne posso parlare solo bene. Fuori dal campo no. Però da quello che leggo c'è qualcuno che sta provvedendo. La finita partita è vero che noi abbracciamo il mister, soprattutto il mister, ma no perché è in difficoltà perché poi in campo scendiamo noi. Perché si è pure visto che giocando con dieci diversi moduli e abbiamo qualche figuraccia di cacchina l'abbiamo fatta noi in campo. Quindi non diamo tutte le colpe al mister oppure se è in difficoltà lo andiamo a abbracciare. Anzi è lui che magari è venuto da noi a abbracciare noi perché in campo scendiamo noi. Anzi forse lui vorrebbe pure giocare qualche partita perché ancora il fisico ce l'ha. Però andiamo a ringraziare pure i tifosi perché quando sono venuto io vengo da una realtà che è Udine, venivo da una realtà che è Udine dove o perdevi o vincevi, uscivi e come era sempre mezzogiorno. Invece qua magari mi dicevano che la piazza era un po' calda e io giustamente c'hai qualche concentrazione. La prendi in modo diverso l'approccio, no? Sei molto più attento, se perdi sai ma adesso ci contestano. Io devo solo ringraziarli, i tifosi, perché ci hanno aspettato 20 partite e in altri campi dove io ho avuto anche la possibilità di giocare non è così. Ci hanno aspettato perché hanno capito il momento, hanno capito il cambio d'allenatore, hanno capito il cambio di giocatori e anche di una nuova gestione e quindi noi ogni volta che finiamo la partita oltre a salutare il mister, ringraziare il mister e ringraziare i nostri tifosi perché dobbiamo essere tutti uniti sia nella buona che nella cattiva sorte perché se no quando si rompe il giocattolo si dice non è solo dentro lo spogliatoio perché lo spogliatoio noi lo viviamo due ore al giorno, alla fine, quindi è difficile che si litiga, è difficile se c'è qualcuno che non gioca è normale, qualche malcontento ci deve essere dentro lo spogliatoio, però poi la vita privata la fiuti anche fuori quando vai in giro per la città, a me i tifosi mi hanno sempre rispettato come hanno rispettato gli altri, non ho mai sentito qualcuno che è stato minacciato o malmenato per una partita, quindi noi ringraziamo il mister che ci è stato vicino e noi siamo stati vicini a lui e anche i tifosi perché non è successo niente di particolare qui a Firenze e quindi ci hanno dato la possibilità di rifarci.